L'Aquila su Voyager venerdì sera. Su Rai 2 in prima serata, grazie alla sensibilità di Roberto Giacobbo, di recente in città per filmare i luoghi del Giubileo, la Basilica di Collemaggio, il Monastero di San Basilio e altri luoghi simbolo di Papa Celestino V. Uno speciale che la trasmissione Rai dedica al Giubileo della Misericordia, proclamato da Papa Francesco e aperto a tutte le città d'Italia. Tra queste l'Aquila, sede del primo Giubileo della storia, non poteva mancare, come disse ai nostri microfoni il giornalista Roberto Giacobbo, solo poco tempo fa, la testimonianza di una storia così importante. La truppo, infatti, aveva trascorso all'Aquila una giornata intera, lo scorso 30 ottobre, per girare immagini e interviste della puntata di venerdì. Noi di TV6 ci eravamo con le nostre telecamere. Ma io penso che l'Aquila sia un luogo importante per la sua storia, per il suo presente e per il suo futuro. Io non sono nato all'Aquila, non ho parenti all'Aquila, mi sono innamorato di questa città da solo, senza stimoli. L'Aquila ho pensato di inserirla insieme agli autori con i quali lavoro ogni volta, di Voyager, in questo caso Marco Zamparelli, perché questa è una puntata speciale sul Giubileo. E parlare del Giubileo e parlare solo di Roma non sarebbe stato corretto, anche perché questo Giubileo della Misericordia Papa Francesco lo ha voluto diffuso sul territorio. Grazie.